C'è preoccupazione per l'aumento dei casi registrati anche nella nostra regione della variante Delta, meglio conosciuta come variante indiana. Dopo una costante e lunga discesa dei contagi da due settimane la tendenza si è invertita. I contagi rispetto a 14 giorni fa sono aumentati del 25%, ma la situazione nel complesso resta favorevole e tutti gli indicatori sono ottimali, ma ci sono i primi segnali di un possibile peggioramento. La preoccupazione è che all'origine del fenomeno ci sia la variante Delta che in Abruzzo è responsabile di almeno 5 focolai. Chiaro che la preoccupazione è sempre alta, infatti siamo sempre molto, appena entrando qui ho parlato con il direttore generale della ASRE che sta tenendo sotto stretto controllo questo fenomeno. Il fatto che abbiamo meno casi rispetto a mesi fa quando c'era l'ondata ci permette di moltiplicare l'opera di prevenzione, di tracciamento dei contatti, di confinamento e il numero dei tamponi. Quindi su questo abbiamo messo in campo tutte le strategie utili, compresa quella principale rimane sempre una, vaccinarsi, continuare a vaccinare, non prendere sotto gamba questo fenomeno. Mi rivolgo alle generazioni, alle classi di età che non hanno ancora fatto il vaccino e che magari in questo periodo in cui i casi di Covid sono pochi, gli ospedali sono vuoti, non c'è la stessa pressione psicologica e ambientale che c'era qualche mese fa, può far rallentare un po' la tensione e far sentire meno la necessità di vaccinarsi. Invece no, bisogna continuare, i nostri centri vaccinali sono aperti a pieno ritmo e dobbiamo continuare così per raggiungere quanto prima l'immunità di gregge perché i dati scientifici, i medici dimostrano che con la vaccinazione effettuata anche se questa variante Delta dovesse diffondersi e continuare a contagiare avrebbe però effetti minimi sulla popolazione. Quindi qui il problema vero, oltre che evitare i contagi, è soprattutto evitare di finire in ospedale e di finire con conseguenze gravi. Quindi il vaccino da questo punto di vista è l'arma decisiva.